Io e Marcello Marini, uno dei formatori senior di ImparaDigitale, già presentato in altre occasioni. Senior cosa vuol dire per noi? Che da molti anni è in ImparaDigitale all'interno dell'associazione, non solo per fare formazione, ma per fare ricerca con noi, riflettere su quello che è tutto il cambiamento della didattica o quella che dovrebbe essere o potrebbe essere un cambiamento della didattica, considerando anche le trasformazioni in atto in questo periodo dell'emergenza sanitaria che ha trasformato completamente la scuola. Uno dei problemi principali che abbiamo constatato quando facciamo formazione è affrontare il discorso della progettazione didattica, che per noi invece è fondamentale per poter fare una innovazione vera nella scuola, sia nella didattica a distanza, nella didattica integrata, ma anche nella didattica in presenza. Una trasformazione che non può concentrarsi soltanto né sugli strumenti, cioè la tecnologia, le app e software, le piattaforme, né sugli arredi, né sulle metodologie come frammento di un percorso che invece dovrebbe essere, dovrebbe integrare tutti questi elementi e che dovrebbe proprio vedere la progettazione da parte del consiglio di classe. Se il consiglio di classe poi vuole portare avanti nel periodo definito questo progetto tutti insieme perché i docenti non amano molto collaborare e condividere, cioè noi lo chiediamo ai nostri studenti, ma di fatto i docenti non amano molto la collaborazione, per cui si tende a progettare un'unità di apprendimento, ma poi nel momento in cui si va in classe, questo soprattutto nella secondaria di primo e secondo grado dove c'è la divisione disciplinare e i docenti quindi tendono poi ad andare in classe e fare la propria lezione seguendo un po' il programma tradizionale, magari con metodologie innovative, ma il programma rimane sempre quello tradizionale e la metodologia viene utilizzata soltanto in momenti specifici e ciò non basta evidentemente perché poi la valutazione o quello che è l'osservazione dei nostri studenti o il loro processo di apprendimento non è non lo si vede in un lungo percorso ma semplicemente in un momento specifico del nostro del nostro anno scolastico. Allora per noi invece è fondamentale che la progettazione intervenga all'interno proprio della didattica di tutti i giorni, diventi proprio parte del nostro essere docenti e di insegnare in un modo diverso che può essere fatto con il digitale ma anche senza il digitale, non è essenziale avere il digitale. Certo il digitale aiuta moltissimo soprattutto in una situazione come questa che stiamo vivendo dove il distanziamento ci obbliga a non fare gruppi di lavoro ad esempio nel momento in cui si è in classe perché ognuno è nel proprio banco. Il cloud in questo senso ci può aiutare tantissimo quindi è molto utile avere delle competenze digitali e avere una base delle conoscenze delle varie metodologie che si possono attuare soprattutto nella didattica a distanza dal nostro punto di vista ma anche quando si è in classe utilizzando il cloud piuttosto che una fisicità che in questo momento appunto non ci è concessa. Per fare questo il il consiglio di classe non parliamo della scuola in generale ma almeno il consiglio di classe dovrebbe progettare in un modo in un modo diverso. Allora la richiesta che ci viene fatta molto spesso è quella di capire come fare questa progettazione e come attuarla poi nella didattica di tutti i giorni. Talvolta talvolta quando si fa formazione sulla didattica per competenze si tende ad essere un po' teorici. Noi siamo docenti e in quanto docenti che da dieci anni applichiamo questa metodologia nella scuola in quanto docenti sappiamo tutte le difficoltà e tutte le problematiche connesse al progettare e attuare una didattica di questo tipo. Per cui abbiamo pensato come impara digitale di dare delle brevi indicazioni cioè prendere per mano i docenti per condurli in una facendo vedere quanto poi sia semplice di fatto applicare questo modo di lavorare e come sia semplice anche valutare. Quando io dico è molto semplice vengo di solito contestata vero Marcello quando dico è semplice per i docenti non è sempre così semplice però insomma ci proviamo quindi noi vorremmo darvi delle indicazioni per far sì che i nostri studenti possano entrare possano svolgere la loro il loro apprendimento pronti per essere pronti per arrivare ad essere veramente dei cittadini digitali consapevoli nella società e soprattutto nel mondo del lavoro quindi il profilo d'uscita dei nostri studenti che deve essere pronto ad un mondo del lavoro che ormai si trasforma ogni giorno e quindi proprio perché si trasforma ogni giorno bisogna essere competenti nel riuscire a risolvere i problemi attraverso l'autonomia, la responsabilità, la flessibilità, la creatività ad affrontare la società che si troveranno nel momento in cui entreranno appunto in un mondo che oggi ci è del tutto sconosciuto perché anche la scuola che troveremo nel momento in cui andremo in classe in questo periodo non sarà più in alcun modo la scuola di febbraio apparentemente potrebbe essere uguale ma di fatto sono cambiati gli studenti ma soprattutto sono cambiati i docenti, sono cambiate le relazioni, sono cambiate le famiglie, è cambiata profondamente la società e i ragazzi sono in una scuola completamente diversa da quella di febbraio anche a livello infrastrutturale, anche a livello di arredi, anche a livello di interazione di relazioni fisica quindi noi come ImparaDigitale ci siamo posti questo problema e vorremmo dare delle brevissime indicazioni che naturalmente richiederebbero molto più approfondimento però talvolta ci chiedono ma perché i docenti dovrebbero poi cambiare la didattica? Ma esiste una normativa in questo senso? Marcello tu in questo caso a che cosa risponderesti? Beh la normativa esiste già da diversi anni, è una normativa anche abbastanza chiara, una normativa che sia nel primo che nel secondo ciclo ha come momento finale una certificazione per competenze che va in parallelo a quello che è una valutazione tradizionale e che in questi anni ci ha fatto interrogare proprio su come noi comunque certifichiamo le competenze, cioè che tipo di percorso noi progettiamo all'interno di un curriculum verticale tra l'altro che non può essere definito solamente all'interno di un anno ma che è un continuum addirittura a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado che ci permette di vedere attraverso diverse tappe che sono fondamentalmente tre quello che è lo sviluppo delle competenze e la normativa ci dà anche dei traguardi di competenza nel primo ciclo e soprattutto ci ha disegnato dei profili in uscita che sono profili di una persona competente non solamente di una persona che conosce e che acquisisce dei saperi ma è una persona a 360 gradi è chiaro che in questo percorso quando si parla di progettazione e quando si guarda la normativa il grande lavoro lo deve fare il singolo istituto quindi è ciascuna scuola che deve interrogarsi attraverso le proprie risorse, attraverso le proprie peculiarità su quale curriculum vuole attuare e quindi quale tipo di studente ricollegandosi anche alla domanda che faceva il ministro al termine dell'incontro che c'è stato qualche giorno fa che tipo di profilo, che tipo di studente, discente, ma io direi cittadino noi vogliamo alla fine dei cinque anni di scuola secondaria di secondo grado e quindi il punto di partenza secondo me è capire se la scuola ha una chiara, ciascuna scuola ha una chiara carta di identità e ha disegnato un percorso che è appunto dato dal curriculum verticale questo lavoro del curriculum verticale è un lavoro che deve compiere, che ha come momento finale certo l'approvazione del collegio docenti, ma si compiene i dipartimenti, come i dipartimenti sono organizzati e si costruisce attraverso quelle che sono il primo punto di riferimento normativo che sono le otto competenze di cittadinanza e le competenze per l'apprendimento permanente che sono, direvano anche chiamate, le competenze europee disegnando e avendo ben chiari questi due assets di competenze noi possiamo poi costruire attraverso le discipline un curriculum che possa essere appunto il disegno il percorso del ragazzo che poi ognuno compie secondo i propri tempi anche secondo anche le proprie caratteristiche, certo qui ci rimandiamo anche al fatto che ogni studente deve avere comunque un suo spazio di personalizzazione del percorso e che quindi i profili non saranno tutti uguali non possiamo pretendere che il profilo in uscita di una classe di 20 ragazzi sia uguale per tutti e 20 ragazzi siamo in un momento di formazione alcuni alla fine dell'obbligo scolastico continueranno a studiare altri interromperanno questi studi ma continueranno a studiare in modo diverso chiaramente perché inserendosi nel mondo del lavoro è possibile continuare un percorso di apprendimento anche possibile, diciamo che è quasi indispensabile continuare un percorso di apprendimento e quindi bisogna avere delle competenze di base che possano poi formare gli apprendimenti successivi benissimo quindi adesso proseguiremo dando queste indicazioni ai docenti che ne hanno bisogno di come progettare una unità di apprendimento e come applicarla poi all'interno della classe grazie 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 grazie